Meghan Markle sta entrando in un nuovo capitolo di stile poiché il suo look è sempre meno dettato dall'istituzione reale, la duchessa del Sussex sta entrando nel suo senso dello stile. Vogue Magazine l'ha definita più sicura di sé e rilassata mentre sembrava se stessa. Il cambio di stile di Meghan Markle è stato descritto come meno legato di come l'abbiamo vista in passato, ad esempio, il mese scorso ha incontrato la giornalista e attivista femminista Gloria Steinem. Durante quel pranzo, ha indossato bermuda blu nevi preppi, ma rilassati. Didi ora abbinati a una pochette Nia di Calt Gaia. Il designer di Los Angeles descrive la borsa come infusa di cali, bohemian, perfetta per i nativi di Los Angeles. Secondo quanto riferito, la Steinem ha incontrato Meghan per discutere la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha respinto Roe v. Wade, una mossa che potrebbe vedere la riduzione del diritto all'aborto in molti stati. Meghan ha poi sbalordito i fan durante una serata fuori nella grande mela con un'elegante tuta nera senza spalline con collo bianco di Gabriella Arst. La duchessa ha indossato l'abito accompagnata dal principe Harry per incontrare gli amici al ristorante italiano Locanda Verde. Scrivendo per Vogue, l'editore di Notizia Alice Newbold ha dichiarato, da quando si è dimessa da membro senior di The Firm nel gennaio 2020, abbiamo visto Meghan in tre modalità, mamma di Santa Barbara, donna d'affari di Hollywood e reale in esilio in missione per dirglielo lato della storia. Ha aggiunto, il viaggio vorticoso, a New York City, ha lasciato l'impressione generale di una donna che l'aveva assolutamente inchiodata in termini DPR personali. La signora Newbold ha affermato che le foto di una Meghan più sicura stavano emergendo da tempo. La signora Newbold ha affermato che le foto di un'arrhello che le foto di un'arrhello lato della storia Lo che poteva Lato della storia Lato della storia A presto A presto